Nella mattinata di domenica 29 novembre 2020, nello spazio indistante alla Casa Comunale del Comune di Moio della Civitella, sono stati effettuati ben 60 damponi rapidi antigenici. Nel dare esecuzione a tale attività di screening, in considerazione del numero limitato dei test a disposizione, si è ritenuto opportuno dare preferenza ai cittadini che nei giorni scorsi avevano avuto un diretto contatto con persone già risultate e positive, oltre che ai titolari di pubblici esercizi. Fortunatamente tutti i tamponi processati sono risultati negativi. Ciò lascia ben sperare, afferma il sindaco Enrico Gnarra, ma nell'auspicio di un ritorno ad una situazione di assenza di contagi, invita sempre a non abbassare la guardia mantenendo atteggiamenti responsabili di alto senso civico, nel rispetto di quelle semplici regole importanti per bloccare l'ulteriore diffusione del virus. Il primo cittadino rivolge un pensiero a chi attualmente si ritrova già a convivere con questo terribile nemico, in particolare a due concittadini ospedalizzati, con l'augurio di poter riabbracciare i propri cari e di ritornare al più presto alla loro quotidianità. E' doveroso da parte mia ringraziare, continua il sindaco, innanzitutto il direttore del distretto sanitario 70, dottor Adamo Maiese, che prontamente ha soddisfatto la richiesta notificata gli dal comune di Moio della Civigella, di concedere un congruo numero di tamponi. Ringrazio ancora per la loro preziosa collaborazione al processo e alla lettura dei tamponi i dottori Vito Stefano, Gennaro Costantino e Carmine Pilerci, affinché tutto poi potesse svolgersi in piena sicurezza, necessario è stato il contributo della misericordia di Vallo della Lucania e del nostro lungotenente Pietro Ruggiero, a cui pure rivolgo i miei ringraziamenti.